Mi chiamo Ario Faimi, ho 31 anni, sono un ingegnere meccanico dei materiali e attualmente sono un dottorando in Technology for Health, membro del Laboratorio di Chimica per le Tecnologie presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Industriale. Nel mio progetto di dottorato ho caratterizzato e valutato la sostenibilità dei processi di recupero del fosforo a partire dalle ceneri di scarti, dalle agricoltura, nello specifico dalla pollina e i fanghi di recuperazione, perché il fosforo? Perché è stato inserito dalla Commissione Europea nella lista delle materie prime critiche e quindi è un dovere morale incentivare e promuovere l'estrazione di questo elemento critico da fonti alternative invece dell'estrazione primaria dalle rocce fospatiche. Ho sviluppato un metodo alternativo allo studio del ciclo di vita di un materiale basato su due parametri, l'embodied energy e la carbon footprint, come screening preliminare del processo di recupero studiato a livello di laboratorio. Come applicazione futura possiamo pensare a un metodo alternativo al risparmio energetico per ottenere materiali da riutilizzare in agricoltura. Perfetto. 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 Perfetto.